Il Gozzano fallisce al novantesimo minuto il rigore del possibile pareggio e vanifica con la sconfitta patita con la Sanremese, il successo ottenuto a Montjové con il Pont Donnats. Gara brutta e senza emozioni nei primi 45 minuti. Più vivace nel secondo tempo, soprattutto dopo il vantaggio dei Liguri che ha costretto il Gozzano ad un forcing finale per tentare il tiro a rete che in precedenza non era mai arrivato fino allora. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.